Questa era un po' la premessa. Allora, io ho pensato di presentarvi una rassegna di immagini abbastanza speciali. Perché speciali? Perché ognuno di noi conosce dei libri, ha visto delle immagini dell'arte buddista, eccetera, e quindi ha in mente alcune figurazioni. Figurazioni che però lette nella nostra abitudine, nella prospettiva della nostra abitudine mentale, sono dualistiche. Cioè c'è il Buddha, ci sono gli dèi, ci sono le dèe, ci sono i demoni, ci sono gli esseri infernali. Cioè c'è tutta questa visione, questa cosmologia che, come dire, risente di certe abitudini mentali che sono nostre e che sono separative delle cose. Allora, io ho puntato un po' l'attenzione su un ciclo di dipinti murali in cui non c'è la separazione. O meglio, voi vedete tanti diversi frammenti di situazioni della vita, della morte e dell'espansione della coscienza che fanno parte di un unicum, che fanno parte di una visione unitaria. È difficile trovare in Occidente questa visione unitaria. È molto difficile proprio per questo dualismo orizzontale-verticale che ci è noto, no? E quindi terra, paradiso, inferno, cioè tutte queste scansioni che sono arbitrarie. Cioè voglio dire, perché dobbiamo credere in queste scansioni? Cerchiamo di aprire gli occhi su una visione unitiva delle cose. Quella che Capra chiama la visione sistemica delle cose. Allora cosa succede? Succede che in Tibet, quindi in una civiltà che ha avuto le sue visioni della realtà, ha alimentato un'idea delle cose che precede di molto, di secoli e di millenni naturalmente, la visione buddista. Ecco, siamo, entriamo, mettiamo a fuoco un punto di questa Eurasia. Vediamo se lo so trovare. Ecco, la cartina della Valle dell'Indo. Così, o chiunque di noi può vedere, conosce, diciamo, l'Atlante. E voi vedete qui dentro che cosa è successo. Allora, se noi vogliamo fare, come dire, far centro dell'attenzione, non sulla storia delle civiltà, in un senso appunto di cronologie, di eventi, di guerre, di lotte intestine, eccetera, eccetera. Ma apriamo la visione e diciamo, va bene, in questo grande continente che è l'Eurasia c'è stato, c'è una zona. C'è una zona in cui c'è stato un tale coacervo, un tale incontro e incastro di visioni delle cose che costituisce veramente un apice da esplorare in modo osservativo, cioè né per ammirare né per disprezzare. Cioè, questi sono tutti atteggiamenti convenzionali che fanno parte automatica del nostro modo di vedere le cose. Ma cerchiamo di osservare soltanto. Allora, qui c'è una cartera della Valle dell'Indo. L'Indo è uno dei fiumi più lunghi del pianeta che attraversa un vastissimo territorio, parte dalle montagne himalaiane, qui sulla... ecco, parte di là, vedete, vicino al monte Kailash, e poi attraversa tutto questo territorio fino a uscire al mare. Chiunque di noi sa che le civiltà sono sorte sui fiumi. Quindi questa questa connessione fortissima tra terra e acqua, no? Quindi possiamo dire che certe nicchie, le nicchie delle civiltà umane sono legate all'acqua. Allora, qui dentro che cosa è successo? Noi abbiamo una visione storica molto limitata. Non so, il V secolo avanti Cristo per noi è qualcosa di molto antico. Ma ci sono, però, naturalmente ci sono state delle civiltà preistoriche, di cui ignoriamo quasi tutto se non siamo degli specialisti, no? Allora, scusate. Ecco, qui questa è una zona che attraversa il Ladakh, quindi una zona molto prevalentemente montuosa e carsica, cioè molto arida, nella quale però passa il fiume Indo e soprattutto passano i suoi affluenti. Ecco, in questa zona gli archeologi hanno trovato degli esempi straordinari di arte paleolitica e vedete, cioè ognuno di noi ha nozione che anche nel Sahara e in tutti i continenti ci sono, per fortuna, ci sono delle tracce. E allora che cosa hanno raffigurato questi individui che sono attribuiti al tardo paleolitico? Quindi saremo sui ventimila anni fa, con le prove del Carbonio 14 si va a pescare più o meno in che epoca potevano essere. Ecco, loro hanno riprodotto gli animali del loro habitat e gli animali di cui si nutrivano. Quindi c'è questo fortissimo legame tra l'uomo e l'animale. Naturalmente noi poi abbiamo fatto delle sovrastrutture, cioè per noi l'animale è la vittima, cioè c'è l'uccisione, ma dico, in realtà questi sono stambecchi, muffloni, cervi che facevano parte di quell'habitat. E questo, diciamo istinto, se vogliamo ancora usare questa parola, che cosa questo individuo, che era uno di noi, però di ventimila anni fa, che cosa faceva? Ha riprodotto delle figure del mondo vivente e ha riprodotto anche se stesso. E quindi noi vediamo qui, questi sono cacciatori, presumibilmente, voi sapete le descrizioni, insomma, sono sempre molto, molto aleatorie, ma sono individui eretti, bipedi, molti con arco e con frecce, perché la caccia pare che l'arma più antica sia stata questa, e così via. Quindi noi abbiamo questa visione e a un certo punto, appunto in questo caso in Tibet, quindi non troppo lontano dalla Dak, abbiamo la genealogia dei lama. Quindi il buddismo arriva in Tibet nell'VIII secolo da parte di Padmasambhava, che è uno yogi e un maestro spirituale del sud India, a quanto pare. E cosa succede? Quindi pensate all'immissione di una visione delle cose talmente coercitiva per la sua capacità di persuasione, quindi di attirare fede, che la situazione precedente viene modificata, viene trasformata. Allora noi ci troviamo in questo caso, cioè qui siamo, pensate, nel XVII secolo, il palazzo del Potala esiste già, abbiamo già una trafila di Dalai Lama, cioè di maestri di saggezza, e il quinto che vive nel 1642-1682, è un uomo di grandi visioni. È un uomo, è un mistico, che ha delle esperienze profonde, interiori, e che ha, quindi che compie delle pratiche yoga che servono a potenziare questo potenziale divisione di immaginazione estatica che lui ha. E così si chiama il grande quinto, proprio perché è stato un faro, diciamo, di capacità di interiorizzazione delle cose. Ecco, allora lui a un certo punto che cosa fa? Il Potala esiste già, il palazzo, e ci sono delle acque attorno, ci sono degli affluenti, dei piccoli fiumi, e c'è un lago. Allora, la tradizione vuole, quindi apriamo gli occhi su quello che significa dire c'era una volta, la tradizione vuole. La tradizione vuole che il quinto Dalai Lama voglia costruire un tempio riservato agli, noi diremmo cristianamente, agli esercizi spirituali dei monaci. E decide che il posto adatto è al centro di un laghetto, di un piccolo lago che è nella zona nord, diciamo, del versante nord del Potala. E allora c'è questa decisione, dice, beh, costruiamo questo tempietto. Cosa succede? Succede che esistono delle credenze nel Tibet pre-buddista, per cui la Terra è il regno di esseri rispetto ai quali gli esseri umani sono più o meno dei visitatori di passaggio, ma in realtà la Terra vivente è un intreccio straordinario di forze che sono, come dire, identificate in esseri acquatici, in esseri volatili, terrestri e così via. Cioè è una Terra vibrante, è una Terra viva. Allora vuole la tradizione che in sogno il Dalai Lama viene visitato da un naga, che è un serpente, è un essere acquatico, che appartiene una popolazione di esseri acquatici, che si ritengono padroni del territorio, padroni dell'acqua. E allora il naga gli dice, guarda che la Terra è nostra, quindi tu devi negoziare con noi, siamo noi che ti diamo il permesso di costruire un tempio. Non sei tu che decidi di farlo dove ti pare. Quindi questo è molto interessante, no? Perché è un rovesciamento di prospettiva. Cioè noi siamo convinti che noi andiamo, prendiamo un territorio, è nostro e via. No! Cioè queste credenze arcaiche sono di una Terra vivente, che è la visione ecologica che sta prendendo piede oggi. Vedete come è una visione circolare delle cose, una visione unitaria. Cioè noi stiamo recuperando una visione animistica della realtà, che qui è perfettamente esemplata in questa piccola serie di immagini. Allora qui vedete un un Siddha, cioè uno yogi avanzato che ha saputo sviluppare dei poteri dentro di sé, si chiama Tantipa, costui, che cosa fa? Sta tessendo. Questo è un telaio. Allora nella visione tantrica Zogchen, che precede quella buddista, il cosmo è un tessuto, è una grande tela. Quindi la tela cosmica, no? Con ordito e trama, ordito e trama. Quindi è un processo così. E qui vedete che l'artista, gli artisti che hanno dipinto queste cose, questi affreschi, bene, hanno dato una visione della realtà, che non è una croce, che non è quel che vi pare, è un telaio. Stiamo tessendo le cose. E questo è già un primo dato interessante. Poi ecco qui vedete la scena nella quale occorre ammansire il Naga. E questo esserino nero che voi vedete qui sotto è un Naga rispetto al quale Padma Sambhava, che è questo signore che si schina verso il Naga, ecco adesso stanno negoziando, dice guarda che sono io che do il permesso a te di costruire il Tempio sull'acqua. E quindi cioè la tradizione vuole che una volta ammansiti in Naga, che in tibetano sono Lu, di qui il nome del Tempio, il Tempio di Lu Kang, una volta ammansiti in Naga, noi possiamo anche costruire un Tempio. Con fatto a tre piani, nell'ultimo piano è la stanza di meditazione, nella quale i monaci si identificano con le varie immagini e fanno le esperienze scatenate, diciamo, dalle immagini. Quindi è una stanza riservata ai monaci, di fatti poi, voglio dire, questo Tempio esiste, c'è, ma adesso è un luogo turistico, cioè i cinesi, che hanno naturalmente amabilmente invaso il Tibet, fa parte dei pacchetti turistici delle visite all'Asa, al Potala. Quindi si prende la barchetta e si va a vedere. Ci sono stati dei grossi danni nei dipinti murali, però sostanzialmente, voglio dire, noi ancora possiamo vedere qualcosa. E che cosa vediamo? Che cosa vediamo? Cioè, questi cosiddetti esercizi spirituali dei monaci, che cosa erano? Erano di entrare, di concentrarsi su questa grande bolla cosmica, nella quale, cioè, facendo, come dire, puntando su un fenomeno che in realtà è marginale nella grande bolla cosmica, quello della nascita. Si nasce. Come si nasce? Si nasce da un coito, da un orgasmo. E quindi, allora, il monaco, chi è? È uno che deve aprire gli occhi su tutto il ciclo delle cose. Dall'inizio fisico, fisiologico, alla trasformazione di questa nascita fisica in un risveglio. Questa è la curva che è, che serviva come esercizio spirituale dei monaci buddhisti, di quella tradizione, neca ghiupa. E quindi noi vediamo che, ecco, qui, questo è un naga, vedete, è un naga che ha, diciamo, la struttura di una divinità, quindi ha il suo nimbo, la sua aura, tutti i serpentini attorno, e porta il gioiello del Wish Fulfilling Jewel, cioè il, diciamo, è un simbolo di risveglio. In genere si dice questo. Questo è un essere delle acque, un essere acquatico, che reca questo emblema.